Buonasera, sicuramente per noi è inconfutabile che per quanto potremmo arrivare con buoni scontri nel finale di stagione, sia con Ravenna se vincessimo di 5, sia con Imola in eventuale avulsa, siamo fuori a causa degli scontri tra Ravenna e Imola, quindi sarà una partita risultato ininfluente. Non è ininfluente per quello che comunque sono state le nostre prestazioni finora, anche Roseto nonostante le difficoltà siano stati bravissimi a livello di atteggiamento, i ragazzi in campo che hanno giocato hanno dimostrato tutti quanti voglia di far bene, fame e comunque i loro progressi sia individuali che è quello che lo sport deve cercare di portare poi nei palastetti. Per noi sarà una partita con tante essenze, questo è un po' il live motive di questo periodo ma soprattutto in queste due partite ci ha menomato in tanti ruoli con i giocatori più esperti, Fantoni sicuramente non sarà della partita, Ganeto sicuramente non sarà la partita, proveremo a portare nei dodici Follarin ma con poche possibilità di farlo giocare, quindi sarà una gara in cui dovremmo assolutamente per il rispetto del campionato perché sicuramente ci sono altre squadre che stanno giocando qualcosa e noi dovremmo cercare di essere il più possibile aghi della bilanza al meglio per quello che potremmo fare in campo e delle sorti della possession di altri in primis e soprattutto per quello che riguarda invece l'aspetto emotivo che ci ha dato il pubblico e questa piazza finora standoci vicino in tutti quanti i momenti difficili sarà fondamentale avere la prestazione migliore che possiamo anche appunto per ringraziare tutto il palastetto che anche nei momenti veramente duri in cui eravamo ultimi in classifica non ha mai avuto un giorno di polemica, non c'è mai stato un momento in cui siamo stati distanti, ci hanno sempre seguito anche nelle trasferte più difficili da ultimi in classifica a Cagliari sono venuti in parecchi per stare con la squadra e questa è una cosa che ci ha aiutato tanto anche ad uscire appunto da quello che è stato il periodo nero dell'anno e adesso è giusto cercarne di dargli un regalo che è appunto l'ultima prestazione in casa che deve essere al meglio di quello che potremmo fare e non è detto assolutamente che non possa essere abbastanza Per tutti i giovani per forza nel senso che chiaramente saranno gli unici giocatori in campo adesso recupereremo panni ci sarà Zic che sicuramente in queste situazioni si prende molte responsabilità dovremmo essere bravi noi a non lasciargliele tutte nel senso che a un certo punto della partita chiaramente da pericolo pubblico numero uno rischia di diventare l'unico pericolo pubblico per gli avversari invece il nostro compito sarà quello di condividere un pochino le responsabilità offensive difensivamente avremo molta energia da mettere in campo perché questa è una cosa che non c'è mai mancata e che appunto i ragazzi sono bravi a mettere sempre e cercheremo di tenere coinvolto al meglio Lollo Molinaro che è stato un fattore in queste gare responsabilizzato sicuramente ha dato il massimo ma è il meglio di quello che poteva dare perché ci ha dato davvero tanto a livello di rimbalzo ma anche a livello offensivo è stato comunque un fattore però la chiave sarà quella di non calare mai di intensità, riuscire a tenere la partita comunque anche se non saremo in tanti ad alti ritmi e cercare negli errori di riuscire a non pensare troppo a quello che sbaglieremo ma a rimanere nella partita e a continuare a giocare Forse è una squadra che ancora non cerca praticamente di fare i playoff quindi vorrà venire qua non c'è tutti i posti Sì sicuramente è una squadra molto esperta è una squadra con giocatori solidi adesso con l'innesto di Marino probabilmente hanno dato un po' più di quadratura al loro aspetto soprattutto difensivo e gli mancherà un giocatore importante che è Gandini però sicuramente avranno meno assenza di noi e sarà una partita per loro difficile anche da un punto di vista di importanza nel senso che loro devono vincere per non dover sperare nella contestuale sconfitta di Imola quindi sarà una gara che a livello di risultato appunto per loro sarà decisiva per entrare nella past season domani quest'anno no visto che è l'ultima partita dell'anno un po' un bilancio dell'anno se soprattutto a gennaio come è stato emotivamente visto che se anche voi pensavate di centrare la salvezza con i due giornali antici come sono sicuramente un punto molto a quest'anno di riuscire sicuramente siamo arrivati ad un punto dove si è un po' spaccata la stagione nel senso che credo sia stata molto brava la società a fare delle scelte coraggiose adesso mi dispiace molto per le persone che non hanno continuato in questo percorso però la scelta a partire insomma di mantenere quello che era un'idea di cercare di avere una squadra più equilibrata probabilmente alla fine ha pagato e sicuramente è stata brava proteggere un gruppo che ha portato comunque a riuscire ad affrontare anche le difficoltà non dico che non ci sperassimo perché chiaramente anche nei momenti difficili la cosa che ha salvato appunto il lavoro in palestra è stata la salute umana del gruppo che ha continuato a lavorare bene le difficoltà sono state in primis sicuramente un po' troppe tensioni magari venute da delle sconfitte dei momenti sfortunati la bravura è stata non dover guardare appunto a quando ci salveremo ma essere sempre sul pezzo su un passo alla volta e non portarci ad affrontare la salita con l'ansia di dover a tutti i costi recuperare posizioni su posizioni di giornata in giornata questo secondo me è stato soprattutto la chiave che ci ha permesso di riuscire a portare a casa delle vittorie importanti con squadre difficili come possono essere state quelle di Forlì e quelle di Udine perché vedere e fare dei conti sulla classifica probabilmente in certi momenti della stagione ci avrebbe veramente portato a uno sconforto che invece non c'è mai stato bene, grazie 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 grazie